Benvenuti a tutti da RobiUltras con la nostra carriera allenatore che barra discorso fino a gennaio. Allora, io non sto più a registrarvi tutte le partite, chiaramente la Champions, finché rimarrò io qua, sperando di continuare ad andare avanti il discorso che ho già detto, se no cambieremo squadra. Allora, fino a qui siamo arrivati alla giornata numero 5 e vi faccio subito vedere la classifica come è andata senza farvi vedere le giornate. Questa è la classifica dopo 5 giornate. Il Napoli guida a 15 punti, Juventus e Spezia sono a 13, poi abbiamo Milano a 12, Atalanta a 10, Fiorentina a 9 e guardate che classifica che c'è dalla Fiorentina arrivare fino alla Reggiana. Cioè, sono un mucchio di squadre nello spazio di 7 punti, malissimo il Torino, che non ha ancora vinto, ha fatto un punto in 5 partite. Reggiana anche lei rischia quest'anno dopo due stagioni esaltanti da quando l'ho portata io in Serie A. Niente, ragazzi, Champions League, la prima partita non è andata bene, abbiamo perso contro una fortissima Dinamo Zagabria, poi metterò il video, la formazione qui è già fatta, il campionato lo faccio solo più a 11 minuti, a 10 minuti, velocità 0, audio così, no, anzi, scusatemi, perché quando non gioco senza registrare lo abbassiamo e, eh, niente dobbiamo andare ad alzare una cosa che mi sono dimenticato scusate lo sternuto, ma non è Covid, 11 minuti, il campionato lo farò solo a 10. Allora, io la squadra dovrebbe essere questa qui, ve la faccio vedere, no, anzi, proprio dobbiamo ancora farla. Quindi andiamo avanti, prossima partita, giochiamo contro l'Istanbul, un'altra squadra molto temibile, direi che le maglie però così non vanno assolutamente bene e, niente, ragazzi, giocheremo tutti e due con le maglie, ecco, così direi che vanno molto bene tutte e due le squadre con le maglie da trasferta Allora, allora, qui abbiamo un po' di cose da dire dobbiamo fare uno schema io direi, ho votato sempre il 4-3-1-2 abbiamo Beriscia, Pompato, Castrovilli, Santo Dio, non ce la fa, che sì Benasser, Pellegrini, anche lui, non ce la fa, mettiamo gente con un po' più di esperienza e facciamo questo discorso qui João Mutini ha spostato qua a sinistra Mertens, io gli darei un po' di riposo e voglio dare fiducia a Vignato però Mertens chiaramente portiamo in panchina guardate quanta gente spompa, eh gli impegni sono tanti Leo Duarte può entrare insieme Jacoponi che è pompato Plizzarri Rossettini, anche lui lo andiamo a portare sopra ragazzi, siamo rimaneggiati una cosa senza senso ci proveremo proveremo a fare male a questo Istanbul e niente, giochiamocela così andiamo avanti così forza calcio d'inizio lo stadio l'abbiamo già messo è casuale e andiamo seconda giornata di Champions League la prima abbiamo perso contro se non va derrato mi sembra sì mi sembra che abbiamo perso o pareggiato non mi ricordo contro una Dinamo Zagabria molto forte con Petkovic l'ho registrata quella lì e niente siamo qui stadio San Siro tutto esaurito Milan Istanbul Basakshir Basakshir dai dai andiamo avanti schemenate e si parte le auto Benacer Milan che deve dare una risposta arriva da tre risultati utili consecutivi in campionato Benacer tre vittorie importanti che sì che sì tocca per Vignato manda la palla ancora in direzione su Alsego poi Leao prova il tiro fuori di un pelo subito Mino pericolosissimo riparte Koukouk Pong Ancora Istanbul che avanza Etik Sarrikaya Giuliano avanza Giuliano Sarrikaya Etik lancio in avanti Leo Duarte bravissimo in mediana copertura difensiva arriva Vignato che tocca in direzione subito di Salsedo manda verso Leao Leao attende rinforzi tocca in direzione ancora di João Mutinho fa partire questo bel pallone per Leao di prima mamma mia doveva calciare col destro doveva calciare grande azione grande palla di Mutinho riparte l'Istanbul Kouk Pong Ancora Pong Etik Pong squadre sempre temibili Sarrikaya Giuliano stolita trama giocano molto sul lato destro della loro difesa Etik attenzione cambia stavolta Kajker Kajker avanza Kajker fermato molto bene bravissimo da Vignato l'arbitro vede un fallo non andiamo neanche più a commentare sti falli spalla contro spalla io dico che non è ok ma è calcio quindi Kauk mette in mezzo colpo di testa liberare ancora Vignato e poi qui sbagliamo in uscita attenzione a Giuliano Giuliano avanza e commette fallo calcio di punizione per l'Istanbul dobbiamo stare molto attenti Kaveci mette in mezzo pallone e c'è il gol grandissimo gol mamma mia è già il secondo che prendiamo è in Champions su punizione segna Kaveci e fa il saluto del generale mamma mia grandissimo gol gran punizione blizzari non ci può arrivare bene iniziamo molto bene questa Champions due partite mamma mia no pallone ancora perché si fa andare adesso sul sedo chiude bene lei Kallium ancora lì presumo che sia un coreano Visca avanza che si attenzione ancora Visca dall'altra parte niente da fare quest'anno la Champions si sta risvelando molto dura attenzione ancora al tiro qua mamma mia equipilizzare i conti è veramente una gran parata sono demoralizzati quest'anno non capisco c'è qualcosa in società che non funziona Kaveci mette in mezzo attenzione libera Jacoponi la palla rimane lì pericolosamente ma perché quei tastini lì così per inviabilizzare colpo di testa ancora verso benasser benasser controlla prova a girare mamma mia attenzione sul sedo eh niente lento sul sedo lento 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 sul sedo non in forma Champions League stiamo veramente io tolgo vedete così e gioco come voglio io non come vuole lui perché qui non è la CPU che manovra il Milan sono io Vignato palla Califiori la mette in mezzo Leao mamma mia gran parata coi piedi ancora giù a Mutigno Mutigno fa partire questo radente niente da fare la palla non gira Califiori che ha segnato un grandissimo gol contro il Parma eh da fuori area un gran gol Cucuc rinvia verso Crivelli penso che sia italiano questo Crivelli pallone ancora a che si riparte il Milan ancora benasser che ragiona tocca per il grande Mutigno pallone per Leao attenzione si gira Leao parte il tiro e c'è il palo minchia che sfida però anche da notte subito di prima Sansego alta Dio Bostone Oleao alta e ancora il Cocuc eh guardate come sono intelligenti non vogliono farsi pressare pallone lungo su Grivelli c'è Jacoponi bravo lo contrasta bene poi Vignato dobbiamo dare più ritmo alle nostre azioni bisogna tornare a giocare un tocco e via ancora che si bravissimo tocca per Sossedo eh niente da fare Sossedo oggi inesistente fino adesso grande recupero di Benasser a centrocampo palla Giova Muttino la tocca ancora per Vignato bravo che manda Leao di prima Leao Leao Niente da fare chiude bene l'Istanbul squadra veramente tosta sarà passare il turno sarà veramente difficile Vignato pallone ancora verso Benasser la tocca in direzione di Chessy allarga e propone ancora il movimento adesso di Sossedo Mora niente da fare non corre ragazzi non corre andiamo a vedere subito che non si sia fatto male perché è strano non corre Sossedo viene sostituito e dentro mettiamo Mertens basta non deve stare lì tanto a pensarci non sta giocando bene vediamo se si chiaramente non è in forma e mettiamo fuori classe ex Napoli Mertens gran giocatore lancia ancora lungo per l'Istanbul ancora su Crivelli Leo Duarte poi c'è Califiori che sta giocando un buon campionato anche col Milan quest'anno e poi sbagliamo Vignato ancora Gio Moutinho stavolta bene verso Mertens 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 prova il tiro palla fuori mamma mia è un jolly per questo Milan Mertens può giocare seconda punta trequartista esterno punta mamma mia serve molto lancia in avanti ancora verso Leo Duarte che va a stoppare ancora Califiori stessa trama di prima ed ora Moutinho pallone mamma mia punk Saricaia Giuliano voglio andare a vedere poi se questi Giuliano e Crivelli sono italiani non è detto magari hanno un nome italiano ma sono diciamo italiani però magari vivono da un'altra parte che si avanza che si tocca ancora in direzione di Mertens 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 manda ancora per Vignato madonna come chiudono bene ancora Crivelli attenzione buono c'è un buon movimento questo Crivelli giocatore interessante lo vedo già io come si muovono i giocatori Mertens grandissimo palla verso che si che attende l'arrivo ma vedete che non corrono ma non capisco come mai Dallot mette in mezzo la palla mamma mia ancora che si e ancora la palla in mezzo qui a Mertens si gira e la parata è fuorigioco il fuorigioco ragazzi porca zozza questa Champions nonostante che sia 11 minuti vedete è tosta ancora Giova Moutinho pallone beh poi viene al senso da far rubare bravissimo Califiori palla Vignato bravo che manda ancora Califiori tocca ancora per le aule au niente dobbiamo pressare eh riescono a uscirne bene Giuliano quarantatresimo naga vediamo una sconfitta altra in Champions no eh per favore poi diventa lunga recuperare ancora le Oduarte attenzione qua palla verso Vignato manda in avanti ancora per Mertens bravissimo mamma mia pallone ancora qui mette in mezzo pericoloso pallone bravo ha sorpreso la tocca attenzione bravissimo dal lot cosa ha combinato qui mette in mezzo e c'è il gollo fuori le au mamma mia lo scadere cosa mi si mangia davanti alla porta ragazzi c'è qualcosa che non va in questa formazione niente proviamo ancora andare così poi metteremo ho visto che sulle fasce sulle fasce patiscono molto quindi bisognerà fare un attacco da quella parte da quelle parti lì lì ponk etik ponk eh loro adesso caldi rim cercano di far girare palla lanci in avanti vediamo jacoponi niente da fare non riesce eh bravissimo dal lot poi leo duarte la tiene ancora jacoponi pallone dall'altra parte cali fiore dobbiamo avanzare proviamo ad andare al cross pallone a mert no giovane mutinio la gira subito in direzione di leau che tocca bene per vignato che si sovrappone pallone ancora verso leau sbagliato attenzione qui errore qua nel centrale dell'istambul ancora un po' la palla va dentro noi facciamo il nostro solito schema vediamo se viene dall'otto pallone qui a cali fiori la tiene cali fiori adesso la può dare attenzione la lotta avanza piano piano osserva tocca per mutinio fa partire questo tiro a giro ma è troppo alto santo dio mutinio devi raddrizzare devi raddrizzare dio schifo scusate che mi hanno chiesto di riguardare il gioco scusate mando un attimo avanti stoppo leggermente dovete scusarmi un attimino e adesso lo do champions league champions league perdiamo 1 a 0 con l'istambul già perso con la dinamo zagabria 0 punti ok allora cali fiori andiamo eh dai benassert dai che dio cane la squadra c'è dai leao la merda questo giuliano è un dito nel sedere via e che poi sti giocatori sono guarda sono veramente difficili da pronunciare tranne qualcuno tipo questo dici lì ma vabbè visca vista vuol tosto eh dai Jacoponi usan tu dio tiro un co qua guarda che roba 2 a 0 ragazzi minchia sto crivelli non è male eh non so se è italiano ma penso di sì ma non è detto guarda che errore qua Jacoponi ma guarda con la testa deve andare lì mamma mia che gol c'è blizzari oggi va nozze va cos'è secondo tempo allora ragazzi cambiamo schema sono un attimo al telefono vai vai tranquillo allora c'è il mio amico Fabrizio stiamo guardando insieme questa deludente mina ragazzi mamma mia in Champions proprio non va non va allora Mertens Vignato giochiamo così proviamo 2 a 0 Leao Benassert che sì dai mamma mia che gol che abbiamo preso mamma mia incredibile ancora che sì provo a mandare in avanti Mutiglio gira per Vignato che deve solo metterla in mezzo la alza Leao mamma mia che parata qua e non va neanche in angolo Califiori che sì Califiori dai ragazzi dai ancora che sì forza che sì provaci da qua Benassert Benassert prova il tiro a giro niente non va non va non va imprecisione totale bruttissimo Milan in Champions irriconoscibile quest'anno Milan ci sta dopo una grande stagione in campionato l'anno scorso ci sta ora Mutiglio si riparte pallone ancora Vignato Vignato che adesso manda Leao che non corre santo Dio non corre ancora Vignato pallone all'altra parte adesso sbaglia e riparte Milan Benassert palla ancora Vignato tocca per Mutiglio che può andare al tiro prova adesso la bomba niente da fare ancora Vignato la mette in mezzo Mutiglio niente niente non entra questo portiere è un fenomeno ah Kouk verso Crivelli gran gol eh prima 2-0 Istanbul incredibile niente da fare non riusciamo a giocare in Champions quest'anno c'è qualcosa che non funziona andremo a vedere cos'è dai andiamo vai che si si sgancia dagli alla Mertens vai Mertens bella verso che si dai che si mettila bella dai le au ma guarda che roba gliel'ha tolta dai piedi eccomi ciao Fabri ciao guarda cosa guarda cosa gli ha tolto sul tiro guarda Mertens che palla che ha dato qua ad esterno guarda che si è bel cross radente guarda dio faccia ha messo il piede il cane saddamus saddamus 2 a 0 dai da lot mi ha copponato la squadra di brutto dai da lot provaci di qui falla girare niente niente non entra non entra non entra Fabri niente da fare che gol che ha fatto prima eccolo la tutta mea allora treno apri perché sennò lascosi la lot dai metti in mezzo troppo sul porciedre la madonna fa incazzare dio quanto tempo ci metto dai benassero tienila giù dai dai svegliati ho cambiato lo schema li faccio li faccio alzare bene poi la tocco qui la diamo lì dobbiamo andare con i cross con questo schema qua dai vignato leao niente non imbrocca una oggi c'è anche sfiga abbiamo preso anche un palo nel primo tempo allora come mai è così pochi da sostituire perché sono 7 in champions non ti ho fatto caso della mia no mettiamo che si ma è perché me li sostituisci in automatico a meno che non vado io ah ok metticela no metti lui togiti che si da lì togiti togiti per favore vediamo un po' se riusciamo con questi cambi dai dai forse un po' più di potenza sulle fasce c'è la no glukutska vediamo un po' eh tosta recuperare qua ma poi giocano guarda che roba vai mertens vai in mezzo che di testa è forte mertens di ok niente chiudono tutto eh questa è buona questa è girata bene mettile in mezzo Leo Duarte niente da fare finché centrale difensivo quando alzi si spostano tutti in avanti però così rischi eh c'è nessuno dietro c'è nessuno guarda guarda ma il minimappa tutto è lì e arriva adesso la potenza di chi di colifiori niente terzino che ti dicevo preso da da Sassuolo a Copponi guarda che va guarda che va ridagliela è libero vai vai la mette ancora in mezzo ancora Leo Duarte niente niente da fare no non è sì è cosa è Duarte questo qua non è Leo allora proviamo a fare una cosa facciamo così facciamo lo scatto però bisogna aprire bene così vediamo se riusciamo a fare un gol a Copponi niente oh metti la giù Dio fa Duarte è forte sembra una punta dai allora Diogo da Lotto riproviamoci anzi facciamo così e poi facciamo questo dagliela qui minchia rigore quello lì eh madonna che gamba tesa bella bella niente 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 non passi non si passa ragazzi qua non si passa ormai è persa sta partita qui dai Muttini inventati qualcosa boh che gol cialanoglu vedi questo qui deve sempre giocare non c'è niente da fare mamma mia che gol dio buono che gol porca troia gran gol di cialanoglu i vecchi fanno sempre la differenza quando giocano adesso bilanciamo un po' dobbiamo solo attaccare sperare nel pareggio visca adesso mamma mia dai vai a pressare vai da lot ehi dai Muttini guarda che roba eh giocano eh pericolosi no 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 dai Jacoponi mamma mia subito che si dai Mertes però lì anche se non è una prima punta pura però è grande da lot mamma mia che giocatore cialanoglu andiamo ben assieme dai che c'è il spazio dai che c'è il spazio bravo bravo di prima di prima niente niente novantesimo eh niente mi sa che è andata niente ho pressi come vuoi guarda che roba molto bravi questa squadra eh difficile da giocarci contro eh guarda Etic eh niente ragazzi portano a casa tre punti d'oro adesso la butta in avanti ancora da loro tanto la prossima non la registro dai Muttini un'ultima occasione vai niente non passa un cazzo qua e niente perdiamo madonna i fischi eh giusto andiamo a vedere la classifica dei gironi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia di crista madonna ma guarda che roba oddio eh qua abbiamo mica puoi capire chi vuoi che ci sia primo qua mamma mia e a madrida anche guarda barcellona eh qua qua è già più equilibrato eh e niente i gironi sono questi ora qui tutti i tre punti sei l'intera anche fa molta fatica è ok dai va bene allora stoppiamo questa registrazione tanto fino a gennaio poi si vedrà ciao ciao allora stoppiamo a ciao 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 Grazie a tutti.